Ho avuto parecchi problemi con il mio PC Windows negli ultimi tempi, per questo ho dovuto formattarlo, ma una volta che mi son trovato davanti il mio PC completamente vuoto, mi è venuta l'idea per questo video. Perché non realizzare un video dove spiego passo dopo passo il setup di un PC Windows per lavorare nel mondo del Web3? Fatemi sapere se questo tipo di video può piacervi e magari se volete una guida anche per Mac e per Linux. La prima cosa da fare è recarvi nel vostro browser e scaricare un editor di codice. In questo caso Visual Studio Code. Una volta che lo trovate nei download fate doppio clic per aprirlo. Per la parte di installazione lasciate tutto così com'è, l'unica cosa è che magari aggiungete l'icona sul desktop. Quando avrà finito cliccate su fine così che vi aprirà Visual Studio Code. La cosa principale che ci interessa fare ora è andare su quest'icona e scaricare l'estensione per Solidity, il linguaggio di programmazione che si utilizza per creare Smart Contract. Clicchiamo su installa e mentre lo sta installando passiamo alla seconda parte. Sempre nel browser digitate Python perché dovremmo scaricarlo sul nostro PC. Andiamo sul link ufficiale che in questo caso è il primo in alto, andiamo in Downloads e da qui facciamo il download di Python dell'ultima versione. Andate dove l'avete scaricato e fate doppio clic sul file. Da questa schermata fate Install Now ed aspettiamo il termine dell'installazione. Quando ha finito cliccate sul Disable Path Length Limit. Ed ecco che il setup è finito. Clicchiamo su Close e andiamo ad installare Node.js. Digitate Node.js nel browser. Di solito è il primo risultato come in questo caso, ma comunque fate attenzione che l'URL sia https.nojs.org. Ovviamente avendo Windows questo è un download per Windows, dove ci consiglia la versione 16.16.0, ma ci dice che quella corrente è la 18.7.0. Io personalmente installo sempre la versione consigliata perché è quella che viene supportata da più tempo per il nostro sistema operativo. Quindi clicco sulla 16.16.0 e una volta fatto vado sempre dove l'ho scaricato e faccio doppio clic sul file. Clicco su Next, accetto i termini, decido dove scaricare Node.js ma di solito in questa parte io lascio tutto così com'è. Clicco sempre su Next, qui spunto l'installazione automatica di tutti i tool necessari, clicco su Next e poi su Installa e aspetto la fine dell'installazione. Adesso che ha finito clicco su Finish. Per installare tutti i file in più ci apre questo terminale e ci chiede di cliccare un tasto per continuare. Io clicco Enter, di nuovo Enter, adesso come vedete sta installando tutti i tool che lui ritiene necessari. Lo lasciamo lavorare finché non ha finito. Ci è voluto un po' di tempo ma ha fatto tutto e appena ha finito mi ha chiuso in automatico il PowerShell. E adesso per verificare che tutto sia stato installato correttamente andiamo a cercare il Windows PowerShell, facciamo tasto destro e l'eseguiamo come amministratore. E una volta entrati in questa schermata digiteremo alcuni comandi, come ad esempio node-version. Diamo invio e vediamo che ci dice che la versione di node installata sul nostro sistema operativo è la 16.16.0. Un altro comando che possiamo lanciare è l'npm-version. Vediamo che in questo caso ci dice che la versione è la 8.11.0. Un'altra cosa che ci può servire ma che non abbiamo ancora installato è YARN. Per installare YARN andate sempre nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e abbiamo due possibilità. Se il node.js è maggiore o uguale alla 16.10 serve corpac enable. Se il node.js è minore a questa 16.10 serve npm-i-g corpac. Torniamo nel PowerShell. Verifichiamo la versione del nostro node, in questo caso 16.16, che è maggiore della 16.10. Quindi per installare YARN basterà digitare qui nel PowerShell corpac enable. Come a mio solito ho sbagliato a digitare un comando, quindi lo correggo e rilanciamo di nuovo questo comando. Una volta lanciato potremo digitare YARN-version e vedere la versione del nostro YARN. Come potete vedere però qui mi dice impossibile caricare questo file perché l'esecuzione di script è disabilitata nel sistema in uso. Questo che cosa significa? Significa che se andassimo a prendere la policy di esecuzione degli script sul nostro sistema tramite il comando get-execution policy con la E e la P maiuscola mi raccomando e lanciassimo invio vedremo come nel nostro sistema siamo in restricted. Quindi non possiamo lanciare degli script sostanzialmente. Come vedete qui vi lasciano anche un link della Microsoft che se seguissimo e andassimo nel browser e appunto incollassimo questo link ci lascia tutta una pagina che ci parla dell'execution policies. Ovviamente se siete interessati vi lascio questo link qui sotto in descrizione ma sostanzialmente per risolvere questo problema possiamo passare o da restricted a remote signed o volendo possiamo passare al bypass. Io preferisco passare al bypass e per bypassare basterà digitare il comando set execution policies trattino scope current user trattino execution policies bypass appunto per passare a bypass e trattino force per forzare tra virgolette questo passaggio. Do invio e adesso dopo aver pulito il terminale tramite il comando clear sono pronto a digitare nuovamente get execution policy per vedere che effettivamente da restricted sono passato a bypass. E se adesso provassi a digitare il comando yarn trattino trattino version posso vedere come la versione sul mio sistema è la 1.22.15. Adesso invece vediamo come installare un tool molto carino e molto utile truffle. Per installarlo basterà digitare il comando npm i-g truffle. Diamo invio ed aspettiamo che il nostro pc finisca di installare tutto quello che gli serve. Ed eccoci qui in circa un minuto ha finito di installare tutto quello che gli serviva. Se adesso infatti andassimo a digitare il comando truffle dashboard e dessimo invio vediamo come ci apre il nostro browser predefinito con appunto questa schermata in localhost sulla porta 24 0 12. Questo è un tool molto utile e carino perché cliccando questo pulsante ci permetterà di collegarci alla rete corrente che abbiamo sul nostro metamask per fare delle operazioni nel mondo del web 3 soprattutto lato sviluppo. Adesso io purtroppo non posso farvelo vedere perché avendo appena resettato il pc non ho avuto il tempo di reinstallare metamask. Ed ora siamo giunti all'ultimo tool da scaricare. Questo tool si chiama git ed è sostanzialmente un software che permette di scaricare progetti da GitHub senza però fare il download dello zip ma semplicemente copiando ed incollando il link che ci viene dato in quella pagina e appunto incollarlo nel nostro terminale così da scaricare tutto il progetto. Per scaricare git andate nel link qui sotto in descrizione cliccate download for windows e poi qui scegliete il windows setup a 64 o 32 bit in base alla vostra macchina. Nel mio caso è quello a 64 bit. Una volta scaricato fate doppio clic sul file eseguibile e procedete all'installazione di git seguendo la procedura di installazione predefinita senza toccare nient'altro. Arrivati a questo punto cliccate su install e aspettate solamente che la procedura di installazione vada a buon fine. Una volta finito levate la spunta su questa casella e cliccate su finish. Adesso però dovrete chiudere il PowerShell perché avendo scaricato git dopo l'apertura appunto del PowerShell magari digitando il comando per vedere la sua versione potrebbe dare errore. Il PowerShell potrebbe dare errore quindi clicchiamo su questa x e tra l'altro se andassimo nel browser vedremmo che facendo F5 di questa pagina non ce l'aprirebbe più bensì ci direbbe pagina non trovata. Eccolo qui impossibile raggiungere il sito. Questo perché abbiamo appena chiuso il terminale che lo stava facendo girare. Torno di nuovo nello start per cercare il PowerShell faccio di nuovo tasto destro e lo eseguo come amministratore. Una volta tornati in questa schermata verifichiamo l'ultimo passaggio digitando git-version e come potete vedere c'è la git version 2.37.1.windows.1 E adesso avrai tutto quello che ti può servire per iniziare a smanettare nel mondo del Web3. Se ti sono stato utile lascia like per farmelo sapere ed iscriviti al canale ed attiva la campanellina per non perderti nuovi video come questo. Inoltre lasciami un commento qui sotto se vuoi che porti una versione di questo video anche per Mac e per Linux. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!